Musica DG is on, it's media, it's on Musica Andiamo avanti perché adesso arriva un altro ospite, un altro cantante, una cantante molto brava che riesce mirabilmente a creare atmosfere particolari grazie alla sua voce così bella che graffia con tutta la nostra attenzione, cattura la nostra attenzione con il suo talento. Lei è Maria Rosaria Cenni in Arte Saira che è qui, eccola che arriva, guardate che eleganza, che bella, un applauso per lei. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, allora, beh insomma vi faremo l'altra per dire tutto quello che tu hai fatto nella tua carriera straordinaria. Grazie a te. Tanti, sicuramente a FIGI registrati, quindi un lavoro discografico che sta ancora, ecco, in atto. E allora adesso che cosa ci fai scoprire? Adesso una cover, la dedico a tutti quanti voi e in particolare a Angelo Iannelli perché mi ha invitato e è il minimo che io possa fare. Tu sei una cosa grande. E lo dedichiamo chiaramente, un brano lo dedichiamo a tutta questa gente che abita qui a Napoli e guarda che cosa c'è davanti ai tuoi occhi, che bello. Signore, un applauso per Maria Rosaria Cenni in Arte Saira. Signore, 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 signore. Signore, signore, signore. Signore, signore, signore. Signore, 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 signore. Signore, 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 signore. 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 Signore, 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 signore. Sì, 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 sì. La cosa, la tu stessa non sai La cosa, la non ha già buono No bene, non puoi, non puoi Per me La cosa, la tu stessa non sai La cosa, la tu stessa non sai La cosa, la non ha già buono No bene, non puoi, non puoi La cosa, la tu stessa non sai La cosa, la tu stessa non sai La tu stessa non sai La tu stessa non sai